ciao allora benvenuti in un nuovo video e oggi vi voglio parlare delle creme mani del libro che quelle della linea classica perché non ve l'avevo ancora recensita e sono quelle che si trovano sempre sia in negozio che nei cataloghi quindi perché non parlarne poi sapete la mia leggera passione per le creme mani quindi era ora di approfittarne dunque prima di iniziare mi raccomando come sempre di ricordarti di iscriverti al canale se ne hai ancora fatto cliccare sulla campanella così verrai visata ogni volta che carico un nuovo video e mi raccomando di lasciare un commento se vuoi essere estratta per ricevere un premio se non sai di cosa parlo aspetta la fine del video per scoprirlo e direi di iniziare con le creme mani della versione classica del livro si allora tutte le creme mani hanno questo formato quindi anche comodo da mettere in borsa 30 ml a 2 euro e 95 l'ho segnato in negozio questo è un punto verde quindi non è mai scontabile ma c'è una promozione abbastanza spesso direi un mese si e uno no più o meno di due creme a 5 euro quindi c'è uno sconto invece di 250 invece che di 95 ed è il caso di tenerlo d'occhio allora iniziamo e la prima che vi mostro ovviamente è quella alla noce di cocco che è questa qui sapete la mia leggera passione per il cocco e quindi non potevo non provarla allora è sicuramente tra i miei preferiti per la mia passione ovviamente per il cocco profuma di cocco cioè proprio profuma una volta sulle mani profuma meno ma è cocco cioè se no me la mettevo sul naso era anche meglio però comunque è proprio cocco è fantastica anche in estate questo per profumazione mi piace è inutile dire che mi piace ha un buon potere da tante si applica poco prodotto sulle mani si stende benissimo assolve molto velocemente lascia le mani morbide va bene a catena in borsa per riapplicarlo durante il giorno quindi niente da ridire è tra le mie preferite quelle alla cocco mi piace è inutile dire che mi piace andiamo avanti con la seconda che invece eccola qui la seconda che ho provato è questa olive petite grain questa qua e allora più o meno è come la come le altre quindi buon potere idratante si basta poco prodotto si stende bene assolve velocemente è ok parliamo della profumazione sì l'avevo segnato ma allora se sta così è un profumo fiorito fiorito abbastanza fresco sicuramente adatta alla stagione estiva più che altro però persiste tanto tanto sulle mani quindi o vi piace vi piace davvero la profumazione o dopo un po vi stancate io ho fatto l'errore di applicarla la sera prima di andare a letto e sentire tutta notte questo profumo mi ha stancato quindi l'ho alternata con altre per finirla non è non è cattivo del profumo è buono però deve piacervi e poi davvero è persistente quindi positivo sicuramente che è persistente però da usare ogni tanto perché sennò può stancare può stancare davvero e poi andiamo avanti e adesso vi mostro vi mostro quella che è stata la mia scoperta allora questa mango e coriandolo questa qui allora texture come le altre quindi buon potere idratante assolvi velocemente ed è tutto quanto c'è parla c'è parla c'è parla parliamo della profumazione perché alla fine la crema è la stessa ma è solo che cani profumazione la profumazione di questa è stata una scoperta allora è fruttata per via del mango però è fruttata sì ma quella punta di come si dice ecco che senti dopo dunque di agrume ecco quella punta di agrume di agrumato che non lo rende stucchevole è buona cioè è buona non l'avrei mai detto ma è fruttata fresca con quella punta più decisa mi piace tantissimo quasi quasi più di quella al cocco diciamo che questa la potrei usare anche in inverno quella al cocco invece solamente estiva però mi piace e il profumo persiste anche però non è stucchevole o stanca come quella all'oliva che invece persisteva davvero tanto troppo e veniamo con l'ultima che che questa e ve la presento è il vanilla barbon ed è la mia profumazione per l'inverno preferita per l'estate il cocco per l'inverno vanilla barbon come le altre la texture sempre uguale quindi poteridratante buono a sabre velocemente si può usare sia di giorno che di sera il profumo cioè vaniglia vaniglia pura con quella punta più decisa del barbon è da annusare assolutamente perché se vi piace la vaniglia questa è calda avvolgente coccolosa però quella punta più decisa non è stucchevole non è dolce cioè è fantastica e persiste anche questa sulla pelle questa è fantastica per l'inverno davvero la profumazione che non si è mai abbastanza poi è proprio coccolosa quindi riassumendo tutto il quanto prima di tutto l'inci l'inci è abbastanza buono ma contiene silicone però c'è in tantissimi prodotti non è proprio una prerogativa di questo allora la texture delle creme è sempre la stessa la formula è sempre quella cambia solamente la profumazione per fortuna che la formula è buona e valida quindi per la formula sicuramente le profumazioni classiche poi ne sono uscite altre ma queste sono le quattro classiche e sicuramente ho l'estiva che è quella al cocco che io adoro l'invernale per me è il vaniglia barbon sicuramente anche mango e coriandolo non mi è piaciuto per niente mentre quella olive petit grain si buona ma con restrizioni però adesso io sono curiosa di sapere anche da voi se le avete provate qual è la vostra preferita quale vi piace di più se condividete le opinioni con me o se preferite altre e sono curiosa di saperne mi raccomando di lasciate un commentino qua sotto qui 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 e se vi piaciuto questo video anche un bel pollice di su mi fa il piacere e alla prossima ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estrargo ogni mese ciao ciao